Ben trovati da Cobat TV, torna la rassegna stampa, selezione delle principali notizie della settimana. Parleremo degli impatti dell'emergenza coronavirus sulle attività di gestione dei rifiuti, attività che non si fermano per il loro carattere di pubblica utilità e parleremo anche di tutta la normativa di settore che continua ad andare avanti. Ma andiamo a vedere cosa c'è in primo piano questa settimana. Emergenza coronavirus Cobat garantisce la continuità del servizio e è sempre in tema di emergenza, ci sono anche le indicazioni dei centri di coordinamento pile e accumulatori e RAE. Veicoli fuori uso, 9 deroghe europee per piombo e cromo, apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche qui deroghe per cromo, cadmio e piombo e infine la conferenza nazionale sull'economia circolare prevista per il 19 marzo sarà in diretta streaming. Cominciamo la nostra rassegna stampa parlando prima di tutto delle attività di Cobat che non si fermano, vanno avanti anche in seguito ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, del 9 e dell'11 marzo relativi all'emergenza coronavirus in Italia. Il Consorzio assicura la continuità del servizio in linea con le normative vigenti e nel rispetto dei principi di precauzione e tutela della salute dei propri dipendenti, dei soci, dei partner e di tutti gli attori dell'intera filiera. Cobat ha già predisposto tutte le tecnologie necessarie per il lavoro da remoto, il cosiddetto smart working e assicura l'operatività totale di tutti gli uffici. Per evitare contatti con potenziali infezioni tutte le riunioni si svolgono in videoconferenza o laddove non sia possibile per via telefonica. Ricordiamo inoltre che il decreto dell'8 marzo 2020 non pone vincoli al trasporto di merci come confermato anche dal chiarimento interpretativo della protezione civile dello stesso giorno. L'attività operativa di Cobat, dunque la raccolta, lo stoccaggio, l'avvio e il riciclo, continua a essere garantita in tutta Italia in conformità con le normative nazionali e regionali. Per tutelare la salute di tutti i nostri partner logistici seguono scrupolosamente le indicazioni del Ministero della Salute sin dall'inizio dell'emergenza. Continuiamo a parlare degli effetti del coronavirus sul settore di questa situazione di emergenza in ottemperanza alle indicazioni previste nei decreti di cui abbiamo parlato poc'anzi. È necessario che il servizio di gestione dei rifiuti di pile accumulatorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche, visto il loro carattere di pubblica utilità, si svolga con continuità. A dirlo sono i centri di coordinamento Pile e RAE che ritengono importante, al fine di limitare gli spostamenti non necessari, limitare le attività di ritiro dei rifiuti dai luoghi di raccolta ai soli ritiri su chiamata. Le attività dei prelievo devono essere necessariamente svolte nel massimo rispetto delle disposizioni legate all'attuale situazione sanitaria, così come indicato dalle autorità competenti, in particolare in merito alle azioni da interprendere al fine di limitare i rischi di contagio. I centri di coordinamento ritengono pertanto che gli spostamenti legati ai prelievi di rifiuti di pile accumulatori dai luoghi di raccolta registrati al CDC NPA e di RAE domestici dai centri di raccolta e dai luoghi di raggruppamento della distribuzione possono considerarsi motivati da comprovate esigenze lavorative per un servizio essenziale. Cambiamo adesso argomento, parliamo di veicoli fuori uso. L'Italia ha tempo fino al 5 aprile 2020 per recepire le nuove modifiche alla direttiva sui veicoli fuori uso che aggiornano il quadro delle esenzioni al divieto di utilizzo di piombo e cromo nei componenti dei veicoli. Il riferimento è la direttiva 2020-363 dell'Unione Europea che conferma l'utilizzo del piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione e fornisce un'ulteriore serie di dettagli che vi invitiamo direttamente a scaricare attraverso il link pubblicato sulla nostra newsletter. Deroghe anche per le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono all'interno dei decreti pubblicati all'interno della stessa edizione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Stavolta la deadline è dal 1 aprile 2021. Saranno operative le nuove deroghe al divieto di utilizzo di cromo, cadmio e piombo in alcuni apparecchi elettronici. Sono diverse le direttive, vi invitiamo a scaricarle sempre attraverso i link che forniamo attraverso il nostro servizio di newsletter. Concludiamo la nostra rassegna stampa parlando della conferenza nazionale sull'economia circolare prevista per il prossimo 19 marzo a partire dalle 10.30 che verrà realizzata alla luce dell'attuale situazione sanitaria in diretta streaming sul sito della Fondazione Sviluppo Sostenibile del Circular Economy Network, nonché sul profilo Facebook di quest'ultimo. Il programma in diretta streaming è incentrato sulla presentazione del rapporto 2020 sull'economia circolare in Italia da parte di Edo Ronchi, presidente del Circular Economy Network e di Roberto Morabito, direttore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali di Enea. E questa era l'ultima notizia della rassegna stampa, rassegna stampa che potrà tornare inevitabilmente con modalità un po' diverse, vista la situazione di smart working. Sicuramente si spera torneremo qui da questi studi a partire da inizio aprile. L'augurio di buon lavoro e una buona settimana a tutti.